A trani e emergenza furti d'auto ormai non ci sono più dubbi le denunce aumentano con il passare dei giorni l'escalation si è registrata proprio nel mese di marzo tra furti messi a segno ed altri solo tentati almeno tre gli episodi in cui i proprietari hanno visto sparire il proprio veicolo due i colpi falliti quattro invece le auto rimaste senza pneumatici il bilancio di marzo e da maglia nera ma anche i mesi precedenti hanno fatto registrare altri episodi l'ultimo in ordine di tempo è avvenuto nel tardo pomeriggio di mercoledì 30 marzo in via umberto nella zona nord di trani a subire il furto dell'auto è stato il proprietario di un esercizio commerciale le immagini di video sorveglianza non mostrano l'azione del malvivente il veicolo è parcheggiato sulla parte di sinistra fuori dall'inquadratura ma si nota chiaramente un soggetto avvicinarsi all'auto e dopo pochi secondi uscire dal parcheggio per far perdere le proprie tracce insieme alla kia sportage l'episodio è stato denunciato alle forze dell'ordine il furto non è avvenuto nella notte ma in un orario piuttosto trafficato tra veicoli in transito e pedoni sempre nel pomeriggio di ieri attorno alle 18 un'altra auto è stata rubata in piazza della repubblica una hyundai tucson circa dieci giorni fa sul lungomare cristoforo colombo di trani una donna non ha più trovato il suo veicolo al termine di una cena ad inizio marzo invece due tentativi di furto non andate a buon fine mentre in diverse occasioni almeno quattro alcune auto sono rimaste sulle pietre letteralmente dopo che i noti hanno portato via gli pneumatici una situazione che appare ormai fuori controllo e che è destinata a far discutere i furti non avvengono più esclusivamente di notte ma anche in pieno giorno quasi a voler sfidare il pericolo di essere colti in flagranza in barba alle stesse forze dell'ordine che quotidianamente controllano il territorio non avvengono più esclusivamente di notte ma anche in pieno giorno quasi a voler sfidare il